È in corso una campagna di estorsioni attraverso l'invio di e-mail con accuse per reati pedopornografici e in allegato falsi documenti provenienti da uffici di polizia, che intimano il pagamento di somme di denaro per la risoluzione bonaria della vicenda. Tali documenti giungono con un meccanismo di invio massivo che colpisce a pioggia migliaia di indirizzi di posta elettronica. Nel tempo sono state registrate mail e documenti di diverse istituzioni e forze di polizia italiane e straniere. In caso di ricezione simile e corrispondenza, si invitano gli eventuali destinatari a rivolgersi alle forze di polizia senza effettuare pagamenti, poiché si tratta di fraudolenti meccanismi estorsivi.